Ciao a tutti, sono il prof. Dr. Frido Jandolo da Italia. Oggi vi raccontare il matzing device per l'altrasonico attivazione, l'altrasmatte di Coqso. Dopo la fase di shabby, possiamo continuare a fare la tecnica 3D-clinica. Prima di sottotitoli, possiamo continuare a fare l'altrasonico attivazione e l'altrasonico attivazione. Per l'altrasonico attivazione, possiamo usare il Coqso C-Field Mini, il pen per l'altrasonico. Per l'altrasonico attivazione, possiamo continuare a fare l'altrasonico attivazione. 3D-clinica attivazione, con l'altrasonico attivazione. Grazie. 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.